Cos'è quel volantino lì? Ah guardi, è una cosa fantastica C'è un'edizione del Kanga Che ha nomi Ha nomi Il paese vicino, cognomi E praticamente lei andrà Domenica 18 No, allora 18 Sabato 13 Esatto, che è il prosoci Adesso ci siamo, su e giù E lei va qui e ci sarà Mangiare latte e biscotti Ecco, è per farlo, Kanga Grazie Ci vediamo prossimamente Grazie